buonasera signore e signori vi saluto oggi volevo parlare della serie a e in particolare della juventus e in particolare di due personaggi che non mi piacciono proprio per nulla e so che non piacciono altre tante persone però sono nel mondo juventus apparentemente su youtube e continuano a fare questi video in dove dicono stronzate che non ha nessun tipo di senso i personaggi in questione sono tal luca toselli è un altro personaggio il cui nome è max montaina o montagna non so come si dice non penso cambi più di tanto in ogni caso se seguite se seguite dei video su youtube sulla juventus solitamente sono quelli che hanno sempre qualcosa a dire riguardo dunque primo personaggio luca toselli mesi due tre mesi 4 5 mesi fa non so quando contro i personaggi va in trasferta con loro stringe la mano tutti i selfie bellissimo storia della mia vita oh my god questo è quello poi tutto in un tratto perché adesso tutte le cose stanno andando male niente non funziona o ma non si può sta continuando troppo tempo bla 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 stai zitto perché non sai di che cazzo parli altro personaggio continua a fare pagelle pagelle in cui dice non mi piace questo giocatore zero non ha giocato bene due che cazzo forse stronzate cioè nel senso c'è un minimo di idea di cosa significa non puoi dare due o zero uno cioè non sono voti che si possono dare se uno fa male dai 4 se uno fa bene molto bene dai 8 così uno si fa ancora la media 4p 8 ok diviso 2 12 diventa un 6 passa se gli dai uno zero in inculi tutto l'anno praticamente se un professore non dai nessuno di dai un 4 le dici torna al prossimo esame farebbe in ogni caso parliamo un po di alcune delle stronzate che questo max dice ok allora prima di tutti morata morata ok morata fa schifo bla 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 ok morata fa schifo questi sono i numeri morata 154 presenze 51 gol 22 assist che vuol dire che praticamente fa un gol ogni tre partite di media un gol ogni tre partite di media le 154 presenze sono 154 presenze nel senso che se il giocatore ha giocato anche un minuto anche se 154 presenze ufficiali 51 gol praticamente vuol dire che fa un gol ogni tre partite ok non stiamo contando i minuti stiamo contando le partite un gol ogni tre partite dunque con questa media calcolando 38 partite a stagione dovrebbe fare più o meno tra i 12 e 13 gol quest'anno di media non è detto che ne faccia più non è detto che ne faccia meno però i numeri basati su 154 presenze tra serie a champions coppa italia super coppa 51 gol dunque è la media dunque ci aspettiamo che faccia dei 12 e 13 gol né più né meno se ne fa di più bene se ne fa meno ok non cambia niente però penso che dopo 154 presenze uno possa più o meno insomma se segui un po le statistiche potrebbe anche crederci dice ok 12 13 cosa stagione benissimo ok adesso un'altra persona che sempre questo personaggio piace dire brutte cose riguardo paolo di bala paolo di bala 266 presenze 102 gol 39 sesto dunque la media è di praticamente 4 gol ogni 10 partite 4 gol ogni 10 partite ok dunque basato su questa media si gioca tutte le partite diciamo tutte le 38 partite che già si sa non fa perché ne ha già perse ok però basato su 38 partite e la media dovrebbe fare più o meno 15 gol in serie a quest'anno 15 gol di media ovviamente cambiando il numero di partite che gioca e minutaggi e tutto quanto magari ne fa di più magari ne fa di meno non lo so ok adesso guardiamo uno dei centravanti che tutti quanti o ma grandissimo perché è andato via non capisco questo è quello ok a gonzalo e guain guain detto pipita o pipa presenze ufficiali 149 gol 66 dunque questa è una media di quattro gol e mezzo ogni 10 partite ok dunque praticamente ha un gol in più per 10 partite rispetto a morata è più o meno la stessa media di gol di paolo di bala però se vogliamo dal mente interessarci a vedere le statistiche come sono allora guardate quanti minuti ha giocato morata e di bala in totale e guardate quanti minuti ha giocato e guain se ha fatto il rapporto tra i minuti giocati e gol fatti di bala e morata hanno segnato molto di più di guai e per esempio i guain so che è costato 90 milioni ma ha giocato alcune stagioni in cui ha fatto bene alcune stagioni in cui non ha fatto molto bene e però so che il suo ingaggio era molto più alto di quello che prende morata è oltretutto più alto di quello che prende di pala adesso dunque lasciamo perdere poi parliamo di qualcos'altro che questi due personaggi a cui piace parlare allora da quando è tornato max allegri a fare l'allenatore io non sono mai stato una persona in cui l'ha supportato perché non ho mai capito le sue tattiche perché penso che alla fine non usi nessun tipo di tattica però da quel che ho capito allegri è stato voluto dalla società prima è stato licenziato perché sono piaceva gioco che faceva uno cambia allenatore vabbè hanno pagato per andare via e adesso lo pagano più di quello che lo pagavano prima per tornare e per fare una figura di merda praticamente ok in ogni caso se prendiamo le 14 partite in serie a che hanno fatto quest'anno hanno 21 punti diviso per 14 partiti vuol dire che la media punti è un punto e mezzo per partita se calcoliamo 38 partite vuol dire che la juventus con questa media si continuano con questa media che può migliorare può peggiorare però se continuano con questa media faranno più o meno 60 punti ok allegri oggi parlava è la differenza reti che conta questo e quello cazzo vero perché se guardiamo anche per esempio i risultati di sari a degli ultimi cinque anni vediamo per esempio stagione 2018 2019 differenza gol ok perfetto è stato lui no non è stato l'ultimo campionato che la juve ha vinto è stato il penultimo però vediamo per esempio la differenza gol ok dunque partiamo dalla classifica ok bologna differenza gol meno 8 decimi in classifica ok differenza gol significa penso che tutti lo sanno però tanto così per mettere tutto in chiaro praticamente è la differenza tra i gol segnati e i gol subiti dunque il bologna è meno 8 nella stagione 2018 2019 dunque significa che hanno segnato 48 gol ne hanno subiti 56 dunque sono a meno 8 perché hanno subito più 8 gol rispetto a quelle che hanno segnato ok va bene dunque bologna con meno 8 gol decima posizione sassuolo meno 7 gol undicesima posizione udinese meno 14 gol dodicesima posizione spal meno 12 gol tredicesima posizione parma quattordicesimo meno 20 gol cagliari quindicesimo meno 18 gol fiorentina sedicesima più due dunque vuol dire che tutte queste squadre in cui hanno un passivo addirittura lo spezia 20 gol che hanno subito in più quelli che hanno segnato per dire la fiorentina ha segnato 47 gol e ne ha subiti 45 dunque hanno segnato più gol di quelli che hanno subito dunque la differenza reti era in positivo di due e sono arrivati dopo cagliari parma spal udinese sassuolo e bologna che tutti erano in negativo ok grande analisi max allegri adesso guardiamo per esempio un'altra stagione dice differenza reti differenza reti che si viene di più vince di più non vuol dire niente perché se guardiamo tre partite possiamo vincere uno a zero una partita uno a zero la seconda partita e perdere quattro a zero la terza partita facciamo sei punti su nove punti disponibili e la media goal sarebbe comunque meno due perché abbiamo fatto due gol e ne abbiamo subiti quattro dunque la media goal la differenza gol non c'entra assolutamente niente e potrei andare in dettaglio e guardare anche per esempio vediamo a ok per esempio stagione 2019 2020 il verona è arrivato 19 scusate è arrivato nono e ha segnato in totale 47 gol il lecce è retrocesso e ne ha segnati 52 gol ok senza guardare la differenza reti però non è vero che chi segna di più va più alto in classifica non vuol dire niente perché per esempio osso ok juventus per esempio la differenza gol tra juventus inter atalanta lazio che erano le prime quattro la juventus è quella che aveva differenza gol peggiore perché ne aveva 33 l'inter 45 l'atalanta 50 e la lazio 37 non vuol dire assolutamente niente dunque chiudiamo il discorso vorrei parlare un po di max allegri e non mi piace come gioca non mi non mi è mai piaciuto non penso non penso mai avrà il coraggio di dire basta non so fare questo lavoro è deprimente mi ritiro o mi dimetto non farà mai perché prende talmente tanti soldi e lo hanno firmato per un contratto di quattro anni che ovviamente va in conferenza stampa ridice ma sì ma dai ma vabbè ma chi se ne frega abbiamo giocato bene non abbiamo fatto il risultato perché ovviamente qualsiasi persona nella sua posizione direbbe la stessa cosa non è che può dire siamo una squadra di merda facciamo schifo così a questi livelli non possono dire dunque ci tiene il suo lavoro ci tiene prendere i suoi soldi dunque non dirà mai voglio dimettermi mai e mai se proprio poi lo licenziano però dobbiamo pagarlo guardando le statistiche di max allegri come ho detto la juventus quest'anno fa un punto e mezzo per partita di meglio l'unico anno che allegri ha fatto peggio è stato l'ultimo anno che era il milan ed è stato esonerato dopo 19 partite dunque non lo so fate voi adesso parliamo un po' di calciatori dunque torniamo in realtà su morata adesso anche oggi dopo la partita di oggi ha sconfitto in casa con l'atalanta e morata fa schifo non segna non fa niente ok morata è venuto tutta la partita centrocampo prendersi i palloni ha subito falli hanno dovuto anche scambiare il difensore perché entrambi i difensori che hanno su di lui sono fatti ammonire e ha costruito bene ha fatto molti slalom ha passato i giocatori ha fatto delle buone aperture per altre persone però morata non può partire dal centrocampo andare a segnare per conto solo se la squadra non costruisce niente non gli dà la palla in non può segnare ok e questo va per tutti gli attaccanti perché anche di pala sta facendo la stessa cosa viene centrocampo si prende la palla si aspetta che qualcuno tipo mckenie o chiesa che sono quelli veloci che giocano che hanno giocato più sulle fasce o che insomma si sa che fanno questi tagli che si smarchino in qualche modo e riescono a prendere il pallone è successo una volta mckenie era davanti al portiere è un passaggio filtrante di bonucci però basta quello è stato l'unico taglio l'unica praticamente cosa decente che ha fatto tutta la partita prima di infortunarsi gli auguriamo il meglio e lui anche chiesa che sappiamo che è infortunato però anche adesso se sentiamo parlare locatelli giocatore eccezionale locatelli statistiche quest'anno 14 partite ha giocato praticamente l'unica persona che ha giocato più minuti penso sia bonucci anche se solo 12 presenze locatelli due gol ok uno anche abbastanza determinante nel darvi un assist in 14 partite cioè questo qua è stato pagato e insomma un bel po di soldi per fare playmaker e questo qua viene fuori che è peggio di tutti quanti quelli che avevamo prima dunque non ha nessun senso chiamarlo campione non ha nessun senso di dire locatelli si vede locatelli non sta facendo un cazzo perché se guardate le statistiche apparentemente che sono cioè uno può andare a guardare sulla serie a ci sono tutte le statistiche qualsiasi altra pagina e uno si può anche leggere insomma locatelli non sta giocando bene e non è il migliore giocatore che abbiamo anche in questo tipo di ruolo perché alla fine il giocatore che abbiamo di meglio in questo ruolo in base alle statistiche sarebbe praticamente bentancura ha più passaggi chiave a più passaggi completati a corre di più a più interventi successivi a dunque è meglio dunque già per dire che in bentancura è meglio le locatelli e già dire qualcosa che è fuori luogo però è guardando le statistiche questa è la verità adesso guardiamo un'altra cosa tipo una statistica in base per esempio marcatori marcatori a top dei marcatori leonardo buonucci tre gol di cui due sul rigore il secondo è di balla tre gol in dieci partite però ha avuto anche tre assist dopodiché praticamente c'è nulla finché arriviamo a Moise Ken Moise due gol in 285 minuti sembra abbastanza buono non capisco perché non giochi titolare però insomma va bene non voglio neanche andare in merito alle altre statistiche ma anche Federico Chiesa Federico Chiesa un gol un gol un assist in quanti minuti 802 minuti dove ci presenta praticamente niente altro quadrato due gol delle un gol Morata due gol se guardiamo altre statistiche come la gente si chiedeva prima eh ma qua ma la locatelli grandioso ok guardiamo i passaggi chiave passaggi chiave significa un passaggio che è stato effettuato da un giocatore in cui la palla è arrivato un altro giocatore della stessa squadra e hanno fatto un tiro però non l'hanno segnato dunque vuol dire che o è stato parato o è andato fuori eh per poco qualcosa comunque un un tiro eh verso la porta eh numero uno quadrato numero uno quadrato numero due di base 16 eh numero tre Morata 15 numero quattro numero quattro numero quattro numero cinque Chiesa 13 e continuando McKennie 10 Bonucci 7 Pentancur 5 Mattia De Sciglio Locatelli ne ha solo quattro ok dunque non è neanche il peggiore ma non è neanche il migliore dunque non non parliamo di Locatelli fenomeno Locatelli fa cagare il cazzo non gioca neanche in nazionale gioca solo se Barella o Giorginio o Berlati non possono giocare dunque Lucatelli giocatore promette bene per il futuro ma non si può neanche pretendere aspettare troppo da lui poi un'altra cosa adesso tutti parlano eh ma la società non sta andando bene adesso sono tutti indagati la società sta andando in famiglia la società non non fallisce nessuno dei personaggi andrà in galera e se la società fallisce la ricavano e la Juventus torna cioè non succede niente praticamente però una cosa che devo dire a tante persone che mi hanno criticato ho detto specificamente una cosa comprate azioni Juventus adesso e il motivo per cui uno dovrebbe investire in queste azioni è perché se uno guarda la borsa e guarda il rendimento della Juventus in borsa negli ultimi 15 anni uno può capire che nell'ultima settimana queste azioni sono andate in basso del 33% praticamente dunque cosa significa? che sono arrivate a un prezzo di al momento cinquanta cinquantasette centesimi arrotoniamo cinquantasette centesimi ok Juventus cosa vuol dire? la persona intelligente investe e compra adesso perché nel giro di due o tre mesi quando la squadra si sistema o risolvono queste faccende le azioni vanno su adesso tutti vogliono vendere dunque è il momento di comprare nel momento in cui la gente vorrà comprare diventa il momento di vendere vi do un piccolo esempio lunedì 23 marzo 2020 investito 50.000 euro in azioni della Juventus a cinquanta e due centesimi rivendute venerdì 24 luglio 2020 a settantasei centesimi che oltretutto non è neanche il picco perché mi sono preso tardi saldo finale positivo senza tasse niente quello a parte 23.000 euro e settantasei centesimi ok dunque vabbè non so l'unico consiglio che posso dare investite se dovete investire in squadre sportive perché è molto molto facile capire il trend in borsa di una squadra sportiva se la squadra fa schifo vendono tutti la squadra sta facendo male le azioni vanno in ripasso compra perché quando Manchester United va giù quando Real Madrid va giù quando Lazio, Roma tutte queste società che sono quotate vanno giù è il momento di comprare perché ovviamente sono squadre buone che non vanno male per tanto tempo dunque non sono investimenti a lungo termine sono investimenti a corto termine però se uno è intelligente si compra un po' di questo un po' di quello quando le cose va male si aspettano un mese, due, tre quando al momento opportuno le vendi e ti fai soldi dunque vabbè non c'è niente di più semplice di investire in squadre sportive che sono in borsa Manchester United era giù perché faceva male il giorno che hanno comprato Ronaldo boom 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 su vendi 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 dunque neanche non c'entra questo è un discorso di investimenti non ha assolutamente non ha niente da fare se ti piace una squadra o non ti piace una squadra non c'entra niente vi dico investi in Juventus a questo momento lunedì mattina decidi un prezzo a cui vuoi comprare decidi quanto vuoi comprare se compri 100 euro non ci fai niente devi investire almeno 10.000 20.000 secondo me se uno può e ti fai i soldi se non ti vuoi fare i soldi non te li fai però gente che va a criticare eh ma qua ma no perché non vogliamo perché non crediamo nella società ma che cazzo se ne frega cioè nel senso la società va bene va male che se te ne frega il saldo in 4 mesi dopo aver investito 50.000 sono 23.000 in tasca si compra la macchina o qualsiasi cosa fare e invece le altre persone che non fanno questi investimenti o che non ci pensano stanno a casa loro e si pagano la fia tarata capito dunque è un discorso di intelligenza e non si può non si può ascoltare gente come Toselli o Montaina Montaina perché sono due tifosi e si fanno prendere dalle emozioni e di calcio non ne capiscono niente dunque non può neanche dare una colpa l'unica colpa chiedo a questi due è che stanno facendo disinformazione e diffamazione e stanno dimostrando che non sono tifosi non sono tifosi né del calcio né soprattutto a Juventus dunque a tutti i personaggi che seguono questi due vi dico pensateci bene e prima di anche mettergli like o seguire questi questi qua che tanto parlano a caso cioè nel senso fa schifo cioè non va bene non ha nessun senso è come come prendere un non so non ha nessun tipo di senso ok dunque l'unico consiglio che vi do è comprate Juventus azioni al più presto possibile perché in questo momento quello che sta facendo la società visto che tutti stanno vendendo sta comprando le stesse azioni che ha venduto molto 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 più basso e quando la squadra inizierà a fare bene le rivendono di nuovo e si rifanno i soldi dunque cioè l'opportunità è lì per tutti cioè sta a voi se volete fare i soldi o no e tornando a Juventus come squadra come ho detto non ci si può aspettare niente da quest'anno se la media punti continua così arriveremo tra il settimo e il nono posto in base alle classifiche degli ultimi 4-5 anni una squadra con circa 60 punti non è mai arrivata meglio del settimo posto e non è arrivata mai peggio del nono posto dunque questo non ci qualifica per l'Europa e ci mette ci mette in una situazione in cui siamo una squadra in metà classifica che sta ricostruendo e basta tutto qui cioè non c'è nessun altro modo di guardare questa stagione ormai lo scudetto è perso il Champions probabilmente è già troppo lontana però se siete tifosi e vi piace la squadra continuate a tifare continuate a sopportarli è giusto è giusto criticarli perché non stanno facendo bene e la maggior parte delle colpe è di allegri però allo stesso tempo cioè anche lui non è che in squadra abbia tutti questi giocatori soprattutto a centro campo e oltretutto la difesa sta anche facendo bene e l'attacco fa anche bene però se vedete come si passano il pallone stanno sempre a cercare di evitare il centro campo perché il centro campo non è buono né da filtro in difesa non è buono in costruzione non è buono in niente dunque quello che vediamo sostanzialmente è Bonucci lanciare la palla e sperare che un attaccante la prende e basta dunque queste tattiche di gioco magari andavano bene 20-30 anni fa però adesso non vanno bene e poi oltretutto la tattica allegria segniamo un gol e poi difendiamoci per restare a partita tutti nella nostra metà campo dietro la palla dunque questo non ha senso non ho capito perché la società l'ha voluto indietro non capisco perché si ostina a far giocare giocatori fuori posizione però fin fine i limiti suoi sono molto evidenti e penso che alla fine la colpa si è della società perché alla fine sono stati loro praticamente a dargli la possibilità di ritornare dunque tifosi vi ringrazio commentate e ci sentiamo alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.